non spavettarti non hai sbagliato canale io sono marvin ma oggi parleremo con dario di rolling release una domanda per lui che secondo me gli ha fatto già qualcun altro dario perché non parli mai delle rolling release e soprattutto non parli mai delle derivate di arch ciao marvin non sei l'unico che mi domanda come mai io abbia parlato raramente di arci mai e derivate quanto mangiare molti suoi utenti si dicono soddisfattissimi mi parlano di grande affidabilità ma io sono al corrente di questioni sul suo team che non restituiscono un'immagine altrettanto positiva confrontiamo le due facce della medaglia vediamo cosa succede ciao da dario di alternativa linux per questo argomento ho deciso di confrontarmi con l'autorevole parere dell'amico marvin pascale che gestisce il blog del canale youtube in marvin we trust di cui lascio i riferimenti nella descrizione sotto al video grazie marvin per aver accettato l'invito ci introduce il tuo sistema operativo mangiaro ciao ciao a tutti e grazie per avermi invitato ovviamente io vi parlerò di mangiaro che è una derivata ad arch quindi una rolling release che si è posta come primo obiettivo quello di essere un po amichevole più amichevole delle delle sue sorelle rolling verso l'utente quindi introduce un'installazione grafica guidata con uno dei dei più famosi installer che è calamares e in più fornisce già una serie di configurazioni preimpostate proprio per rendere quanto più possibile e veloce diciamo l'inserimento degli utenti pensata per gli utenti chiamiamoli meno tecnici in realtà si sposa benissimo con gli utenti pigri come me che non hanno voglia tutte le volte di installarsi un arch linux da zero ok e cosa rende mangiaro così speciale? a parte quello che abbiamo già detto mangiaro è l'ultima realtà che sta dietro a mangiaro ha dato contributi attivi all'open source e quando un gruppo invece che prendere dall'open oltre che a prendere diciamo fornisce anche da qualcosa secondo me è sempre un buon un buon esempio ha sviluppato interamente un package manager chiamato pamac che viene utilizzato anche da altre distribuzioni perché poi il bello dell'open source è questo ha un configuratore chiamato impostazione mangiaro setting manager che permette di installare velocemente dei kernel quindi avere anche più versioni del kernel da poter provare e gestire con facilità i driver che siano essi open source che closed source chiarissimo ora ti devo dire caro marvin che mi sono cementato una sola volta con mangiaro anche a causa di tempi stretti che avevo per testare differenti distro per realizzare un video la mia conoscenza è superficiale ma mi ha fatto letteralmente dannare sia nell'esecuzione live da usb sia in una macchina virtuale virtual box sia con installazione sul mio portatile in quest'ultimo ho dovuto ripetere l'installazione perché al termine il sistema entrava in un loop di login quando poi sono riuscito non mi funzionava il touchpad ho applicato aggiornamenti di loop è ricominciato quando ho risolto cercavo di installare un programma per poter registrare il desktop e poterlo documentare nel mio video e mi ha messo a dura prova ricordo quel giorno in modo traumatico come fosse passato un mese invece che un paio di anni problemi che devo ammettere di non aver incontrato con i miei test con Garuda Linux ed Endeavor OS io so che molti di quelli che mi seguono assiduamente sono felicissimi utenti di Mangiaro e come te mi dicono di non aver mai incontrato alcun problema né alcuna rottura compromissioni irreversibili del sistema in tanti anni di utilizzo e mi sfotteranno giustamente perciò come è naturale che qualcuno mi riferisca di aver incontrato problemi con Linux Mint vuol dire che sono stato particolarmente sfortunato o imbranato beh magari tutte e due ecco infatti di certo successivamente non hanno migliorato la mia opinione alcune notizie la prima o meglio le prime riguardano il certificato SSL del sito web riassumendo per il mio spettatore si tratta del meccanismo che permette una connessione sicura indicata da un lucchetto ad un server che garantisce che ti trovi effettivamente nel sito che ti auguri che sia e se il certificato è scaduto o non valido non puoi avere la certezza di trovarti nel sito in cui ti trovi realmente dico bene sì esatto è proprio così è una garanzia ulteriore di validità appunto del fornitore in questo caso diciamo che stai per scaricare un sistema operativo che vuoi installare nel tuo computer immagino vorrai avere la certezza che il file che stai scaricando provenga effettivamente dagli autori che vuoi che siano e di non ritrovarti in pagine web copiate ad arte per farti installare chissà cosa ebbene il team di mangiarlo ha dimenticato di rinnovare in tempo il certificato SSL del sito web lasciandolo scadere perdonabile certo se non fosse che dal 2015 ad oggi pare sia successo 5 volte ed è un'operazione abbastanza semplice e rapida e anche se così non fosse uno mette una nota in agenda perché non risucceda vista la rilevanza della questione e non finisce qui perché il team di mangiarlo invece di rinnovare in 5 minuti il certificato SSL ha pubblicato un paio di soluzioni per gli utenti una consisteva nel portare indietro di qualche giorno l'orologio di sistema per illuderlo che il certificato fosse ancora valido un'altra nell'aggiungere un'eccezione al browser per connettersi al loro server con il certificato scaduto e sì sono d'accordo su questa parte qui diciamo che non so chiaramente il team di mangiarlo da quante persone sia composto ma sinceramente non è un bel segno questo qui dei certificati soprattutto nel mondo in cui viviamo dove la sicurezza informatica sta raggiungendo diciamo degli obiettivi molto molto alti in corso di questi anni e essere attendibile e affidabile nel web è chiaramente una cosa molto importante speriamo che come mi auguro capiti insomma il team metta un'attenzione importante anche da questi aspetti che possono sembrare di contorno ma che poi tutto sommato di contorno non sono perché rischiano di allontanare degli utenti validi si dice in rete che il team di mangiarlo abbia l'abitudine di introdurre novità che non sono ancora pronte ho letto che è balzato all'onore delle cronache nel 2022 l'introduzione di un supporto un po' troppo precoce per architetture Apple Silicon rilasciato con un kernel che gli sviluppatori del progetto Asai Linux sapevano essere difettoso Mangiaro ha preso pacchetti di sviluppo di Asai Linux e ci ha messo sopra un kernel più nuovo decedendo in autonomia e senza prendere preventivamente contatto con il team Asaki il quale team postò su X un messaggio che diceva Mangiaro Linux sta rilasciando una versione instabile di kernel più recente di quella che noi prevediamo per gli utenti finali ma è difettosa su alcune piattaforme non siamo stati contattati da loro a proposito di questa release per Apple Silicon insomma se quelli di Mangiaro avessero contattato il team Asai avrebbero saputo del problema e magari non avrebbero distribuito ai propri utenti un software in grado di compromettere irriversibilmente il sistema hanno pure creato un danno di immagini ad Asai lasciando credere che si trattasse di un lavoro fatto male o difettoso mentre era effettivamente ritenuto ancora non pronto e non stabile Sì, non l'hanno gestita proprio bene soprattutto perché quella di Asai con l'introduzione di Linux su questi SOC Apple Silicon sarebbe stata una bella vetrina Questi aneddoti mi fanno un po' pensare a un adolescente che ha voglia di dimostrare qualcosa, che ha voglia di fare si vede che il team ha voglia di scrivere un qualcosa di importante all'interno del mondo dell'open source magari alcune volte hanno peccato forse di credo proprio di essere un po' acerbi gestendo meglio queste due situazioni che hai mai detto sicuramente avremmo avuto una fotografia totalmente diversa Sì, perché poi quasi contemporaneamente è sorta l'iniziativa Don't Ship It Non rilasciarlo Si tratta di una lettera aperta un manifesto realizzato da una serie di team di sviluppo impegnati nella comunità open source che prega di non rilasciare progetti non ancora ufficialmente rilasciati e in corso di sviluppo e verifica con la richiesta di contattare preventivamente gli sviluppatori di un progetto prima di rilasciarne versioni non etichettate da loro come stabili Sarà un riferimento al team Mangiaro la frase Se siete una distribuzione che integra modifiche non ancora rilasciate dal suo sviluppatore per favore riconsiderate la decisione È successo quando hanno integrato nella versione stabile del sistema il client di messaggisti caccetti con pacchetti software difettosi che persino il suo autore non aveva ancora verificato e nemmeno era sicuro se sarebbero stati effettivamente rilasciati Persino il nostro connazionale Mirko Brombin cui si deve l'ingegnoso meccanismo di containerizzazione dei software eseguiti in Linux tramite Wine Bottles firmò una lettera aperta nel sito del progetto che va in questa direzione Rilasciare un programma che è noto per essere difettoso non stabile o che non è verificato danneggia l'immagine del programma stesso e non del sistema operativo e genera magari un'enorme quantità di richieste di supporto ai rispettivi spesso inconsapevoli sviluppatori del programma per colpe che non hanno perché non hanno mai voluto rilasciare i propri software in quello stato Tra l'altro questa politica va proprio contro i principi di Mangiaro che vogliono trattenere i pacchetti un po' di più rispetto ad Arch ad Arch pura proprio per evitare che l'utente si trovi davanti a software non testato magari anche in questo caso difettoso o pericoloso per cui si sono un po' contraddetti tra di loro con queste prese di posizione Adesso però vorrei che tu spiegassi il modello di rilascio posticipato dei pacchetti Arch adottato da Mangiaro cosa sono i ripositi Auer e perché o come si pronunci e perché abilitarlo ed integrarne i pacchetti Mangiaro può essere una delle minacce più serie alla stabilità del sistema operativo Certo, volentieri Come tutti sappiamo le distribuzioni GNU Linux si basano su dei repository I repository normalmente sono ufficialmente manutenuti e testati controllati dalle rispettive distribuzioni dai team che lavorano all'interno della distribuzione Capita ogni tanto, ma questo su tutte le distribuzioni che alcuni produttori per farti avere la versione recente del software o magari software che non sono ancora stati ufficialmente integrati all'interno dei repository della propria distribuzione ti chiedono di aggiungere un repository Mangiaro non è la prima Arch non è la prima distribuzione che lo fa esistevano già ai tempi di Debian Ubuntu ha creato un ecosistema intero con i PPA famosissimi dove potevi installare dei software sui repository manutenuti magari anche direttamente dai fornitori, dai produttori di software e AUR che sta per Arch User Repository è un po' l'unione di questo, chiamiamola anarchia se così possiamo dire sono dei repository interamente manutenuti dalla comunità dove una persona può aprire un progetto come fosse un GitHub inserire il proprio codice e sperare che qualcuno lo scarichi chiaramente dove non c'è controllo sappiamo che possono risiedere degli insidie e l'insidia di scaricare e lanciare software non verificato sappiamo tutti a cosa porta per quanto riguarda invece i temi di rilascio Mangiaro si rifà un po' a quella che è la politica chiamiamola del downstream come fece 100S con Red Hat abbiamo Arch Linux che alimenta tutti i giorni i propri repository questi repository vengono letti e fatti propri da Mangiaro che avvia un canale come faceva proprio Debian chiamato Unstable quindi il giorno stesso che viene rilasciato un software nella tua versione se hai aderito al programma Unstable te lo trovi con i rischi e le gioie connesse a questo punto c'è una biforcazione se ci sono degli aggiornamenti di sicurezza importanti vengono fatti diciamo meno test proprio per agevolare il rilascio di queste chiamato Fast Tracking cioè andiamo velocemente in produzione sostanzialmente quello che in gergo tecnico viene chiamato Q&A invece se il software è un software diciamo normale tra virgolette quindi può seguire il normale test di sviluppo viene appunto inserito in un repository ulteriore che si chiama Testing rimane lì qualche giorno normalmente si parla di una settimana dieci giorni se non vengono evidenziati problemi gravi finisce poi effettivamente nei repository stable della release quindi a fronte di un po' di ritardo nel rilascio del software dell'ultima versione nuova fiammante del software hai un po' di stabilità in più o perlomeno questo sarebbe l'obiettivo ok chiarissimo grazie ma allora si deve anche citare un altro fatto in passato il meccanismo che suggeriva agli utenti di mangiare o di integrare pacchetti AUR nel sistema durante le ricerche aveva un bug questo ha generato una pioggia di richieste ai server AUR trasformatasi in un involontario attacco denial of service che mira a rendere impossibile l'erogazione del servizio attaccato e la cosa ha mandato in tilt i server AUR che sono stati offline per ore e indisponibili non solo per gli utenti di mangiare ma anche per tutti quelli di altre distribuzioni che ad AUR si appoggiano errar è umano, d'accordo ma una cosa del genere non dovrebbe accadere due volte come invece è successo pochi test la prima volta perdonabile ma dopo aver causato un problema così grave alla comunità Linux penso si dovrebbero prevedere cautele per impedire che succeda di nuovo perché non sembra un atteggiamento rispettoso nei confronti del lavoro altrui sì, questo è vero si rifà un po' a quello che abbiamo detto prima sembra questa eccessiva foga chiaramente viene poi pagata con in questo caso un disservizio causato un po' a tutti spero che come abbiamo detto prima siano delle lezioni importanti anche perché l'abbiamo detto in apertura Mangiaro ha sviluppato proprio un suo sistema di gestione di pacchetti che integra in maniera più o meno trasparente diciamo facile da utilizzare sia i ripositori ufficiali appunto di Mangiaro sia i ripositori di terze parti tra cui anche AUR è innegabile che AUR sia una fonte inestinguibile di software di pacchetti sia utilizzatissima da tutti i fan di Arch e le derivate per cui ci aspettiamo che venga integrato chiaramente deve essere debitamente segnalato come Mangiaro fa è una delle cose secondo me importanti di Pamac che poi il software diamogli il nome e che fa capire molto bene all'utente quando sta scaricando software da repository ufficiali quando sta scaricando software da repository di terze parti compreso AUR quindi il progetto è validissimo spero che lo portino avanti e che chiaramente diciamo dedichino un po' più di attenzione anche a a fare i test prima di rilasciarlo su tutte le Mangiaro che ci sono in giro beh certo tra l'altro tu in privato mi hai detto da quanti anni è che è un'installazione che non ha alcun difetto di Mangiaro Linux io sono passato alle rilasci diciamo cadenzati di Debian alle rolling release nel 2020 ho fatto questo salto e dal 2020 non ho mai dovuto formattare cancellare revisionare il mio computer lo continuo ad aggiornare tutti i giorni anzi i giorni in cui non escono aggiornamenti sono molto triste e vado avanti così lo uso come distribuzione principale per il mio lavoro e sappiamo insomma quanto il computer sia importante nel mio lavoro quindi è acceso H24 sette giorni su sette dal 2010 2020 quindi ecco vorresti certamente incoraggiare non solo me ma altri utenti a mettere alla prova Mangiaro vuoi lasciare un messaggio in questo senso a conclusione del nostro incontro assolutamente sì la mia esperienza è più che positiva so che ci sono state come tu mi hai detto esperienze meno positive per non dire negative ma da che io uso Linux ed è passato tanto tempo tutte le distribuzioni GNU Linux hanno avuto dei momenti diciamo così oscillatori per cui chi magari ha avuto una brutta esperienza ma comangiaro come qualsiasi altra distribuzione se la pressione è curiosa e a voglia è giusto che sperimenti magari a distanza di poco tempo succedono delle cose delle innovazioni delle modifiche che possono ribaltare completamente l'esperienza utente certo certo quindi ci adopereremo anche per mettere nuovamente alla prova dopo la prima esperienza anche Mangiaro per cui comunque ecco tu sostieni che un conto sia parlare dei svarioni delle leggerezze nella gestione del team un altro conto avere a che fare con Mangiaro Linux da tanto tempo e trovarla quindi comunque un sistema affidabile sì per me rimane un importante strumento di lavoro che non mi ha finora ecco mai deluso in anni di onorato servizio insomma con Marvin ci siamo divertiti in un confronto di Mangiaro Linux con due approcci opposti da un lato l'esperienza d'uso soddisfacente e senza intoppi che molti suoi entusiasti utenti riferiscono dall'altra alcune leggerezze del suo team di sviluppo che non contribuiscono al bene dell'immagine generale del progetto e tu da che parte stai? raccontaci il tuo parere ed eventualmente la tua esperienza perché mi siamo molto curiosi grazie ancora Marvin no grazie a te per avermi invitato e grazie anche per la partecipazione al nostro spettatore per averci seguiti fino a qui a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.